Niki Giustino, il disturbatore televisione per autonomasia, www.nikigiustino.it è domenica 30 novembre 2014 e oggi è il quindicesimo giorno che sono in sciopero della fame sciopero della fame che oggi ho deciso terminerà sono venuto a mangiare una pizza con il mio amico è uscito dal piatto sciopero che terminerà perché ho pensato allora perché fare un sciopero della fame per andare, cioè, essere corrotto essere preso a calci in quel posto lì per andare a lavorare allora ho detto basta, basta chi mi vuole mi cerca quindi abbassi i corrotti, abbasso quelli che vanno avanti solo con le conoscenze quindi terminiamo questo sciopero della fame con una bella forcchettata a una salsiccia e un bel pezzetto di prosciutto crudo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti